Carissimo fratello Luigi e le tre figlie, le mie nipote, papà, mamma, ci vuole solo la mano vostra e non posso dire niente più. L'abbattimento della prima casa di necessità di Domenico Desiano che lo Stato si appresta ad effettuare in via Calosirto a Forio ha scatenato soprattutto sui social un'ondata di indignazione per quando sta accadendo e al tempo stesso di straordinaria solidarietà per questa famiglia di lavoratori che dopo vent'anni si vedrà ridurre in un cumulo di macerie la propria abitazione. E dopo aver ascoltato su Nuola TV la commovente testimonianza della signora Filomena, a letto con la febbre e la bronchite ed in attesa che le venga effettuato dai medici dell'Asla Napoli 2 Nord un secondo tampone per verificare un eventuale contagio da Covid-19, Suri, iraniana rifugiata in Italia, ha voluto esprimere davanti alle nostre telecamere tutta la sua amarezza considerato che nel suo paese ha vissuto la prima guerra del Golfo Persico e visto i talebani abbattere con le bombe le case della povera gente. Sono un po' delusa, anche molto delusa, perché io passavo un altro giorno a vedere che vogliono buttare una casa, che una famiglia, una coppia che è un anziano, una bambina minore sta dentro a buttare giù, sono rimasta male. Mi ha colpito tanto questa storia, guarda, io due o tre giorni non ci posso che non pensare a questa storia, perché la storia che ho passato, ho vissuto, non in questa maniera, è la guerra. La guerra che la bombardano la casa, distruggono la casa, con il macchinario vengono a distruggere la casa, la guerra con il Golfo di Persico, la guerra di Talibano in Afghanistan che sono subito per 5 anni, 8 anni, guerra del Golfo. Sono scappato per venire in Italia per disperazione, per disperazione, 80 giorni viaggio a piedi, attraversato il mondo e voglio lanciare questo messaggio, che è possibile, non fare questo gesto, perché fa male, fa male a tutti, popolo di Ischia, anche a me, perché non è una cosa ingiusta. Si può, perché miracoli ci esistono, uno si può pure sfarmiare, ci sono tante cose più grave che deviamo risolvere. Suri si è appellata al presidente del Consiglio Mario Draghi, al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, affinché si possa salvare dall'abbattimento la casa di Domenico, Filomena e la figlia Luisa. Presidente di Draghi, al presidente di Luca, al presidente della Campania e magistrati, a tutti i santi, che non lo fate questo gesto, perché io questo gesto vedere mi fa male, perché io ho perso mio padre, mio zio, mio fratello, 23 anni, io e tante mia famiglia ho perso dalla guerra. Io unico dico, con tutto il cuore in mano, lo prego, non lo fate, perché fa male vedere questo gesto. Questo gesto mi ha deluso tanto, veramente mi ha preso una grande delusione. Io in Italia non aspettavo questo gesto, a fare una famiglia, soprattutto questo periodo difficile del coronavirus, che siamo zona rossa, fare questo gesto veramente è inaccettabile.